vediamo se il terzo posto me lo conquisto contro la Russia dai dai, una medaglia di bronzo ci vuole dai 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 dai, una medaglia di bronzo la voglio, la voglio, la desidero la voglio beh, qui si sente aria di bronzo, aria di bronzissimo vediamo, vediamo, che atleta, guarda come corre no, ho sbagliato fantastico mamma mia spettacolare io ho vinto il bronzo iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al mio canale iscrivetevi in tantissimi